Una delle nostre proposte rehabilitative motorie di fisioterapia è il percorso schiena. Il percorso schiena che coinvolge tutti quei pazienti che per vari motivi, e sono i più diversi, cresentano mani di schiena. È comunque un percorso che si contraddistingue per l'associazione tra terapia posturale classica, terapia strumentale, terapia per il dolore e introchinesi terapia che altro non vuol dire che è ginnastica in acqua. Il percorso schiena è una patologia che affligge una grandissima fetta di popolazione e è una patologia dovuta anche, non solo, ma anche a delle abitudini posturali che ormai nel 2020 purtroppo ognuno di noi mantiene che sono cattive abitudini. Ecco, questo alla lunga porta può portare, non sempre, alla comparsa di dolore dovuto, ripeto, a diverse patologie. La proposta termale è una proposta completa, per cui si parte con la diagnosi, abbiamo medici specialisti, quindi ortopedici, fisiatri. Eseguita la diagnosi, anche qui avviene la personalizzazione del percorso che in un percorso schiena può essere una personalizzazione che porta all'esecuzione di un percorso un pochino più lungo rispetto ad altre patologie, proprio perché la schiena rispetto al nostro corpo non è meno esteso e che quindi può presentare varie problematiche.